Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Barmite e siamo pronti per un nuovo interessante e selvatico episodio. In questo video ti parlerò di come ottenere una polvere dolcificante dalle carrube. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro sadio, liquore pineta, vermuthmite, liquore foro e liquore fanu, ma ora andiamo a scoprire come fare la nostra polvere di carrube. Sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Ti invito anche a dare un'occhiata anche agli altri nostri canali social, sia Instagram, Facebook e TikTok, sempre con il nome ElGiardinoSottoilNaso e anche MitaSpirits con Facebook e Instagram. Ma veniamo a noi. Siamo in pieno autunno e uno dei frutti che regala l'autunno sono appunto le carrube. Le carrube date appunto il frutto di questo albero che si chiama Siliquia Celidonia, appunto l'albero delle carrube, ce ne sono anche di diverse varietà eccetera eccetera. In Salento ce ne sono diverse, in realtà in passato ce ne erano molte di più, ma comunque se ne trovano in abbondanza. In realtà quest'anno è stata una nata un po' strana, probabilmente il troppo caldo, insomma una serie di circostanze un po' così, che ha portato appunto ad alcuni, a molti alberi, diciamo una fruttificazione molto piccola oppure nulla. E' stato un po' difficile trovare le carrube quest'anno, per me nel parco di Etrontoleuca, perché come tu sai siamo raccoglitori appunto autorizzati del parco di Etrontoleuca e mi ha dato una mano sia Gianluca, Giacunito che ringrazio, e che suo papà Giuseppe, insomma che ringrazio, perché mi hanno aiutato a fare un pochino di scorta per le appunto per le ricette che poi andiamo a preparare. Ci sono delle piccole informazioni che vanno date assolutamente prima della preparazione, quindi prima della trasformazione. Io adesso non so se tu le carrube riesci a procurartele, sicuramente si vendono anche, ho visto anche online, insomma si possono acquistare. La caratteristica della carruba è appunto avere un gusto dolce. E' chiaro che il profumo è molto lontano da quello, questo veniva chiamato in passato la cioccolata dei poveri, in realtà diciamo ha un gusto molto particolare e ha anche un profumo, però rimane dolce, tant'è che ad oggi viene ancora dato come cibo energizzante sia ai cavalli ma anche ai maiali e quant'altro, ma in passato era appunto una leccornia per i bambini, tant'è insomma mi racconta mia madre che aspettavano appunto questi, andavano a fare appunto le processioni e quant'altro e riportavano chi andava i pellegrini e riportavano a casa appunto le carrube. Anche qui in Salento ce ne sono diverse, ci sono diverse testimonianze dell'utilizzo delle carrube e comunque ti consiglio di assaggiare, il gusto ripeto è un po' particolare però secondo me è interessante. Se non credi nel valore delle carrube, diciamo di quanto valore possono avere, prova a cercare online polvere di carrube o meglio farina di carrube e vedi insomma il valore che ha, insomma è una cosa abbastanza costosa anche. Che cosa dobbiamo fare? Prima cosa andiamo a raccogliere? Chiaramente dovremmo raccogliere, queste sono le buone regole del raccoglitore, lontano dalle zone inquinate, lontano dalle strade asfaltate, lontano insomma da, cerchiamo di raccogliere in luoghi quanto più puliti possibili e poi ci sono due possibilità, molto spesso si trovano ancora sull'albero secche oppure si trovano cadute per terra, mi raccomando dai un'occhiata insomma per terra affinché non sia sporco fondamentalmente. Chiaramente nei giorni dopo la pioggia tendono ad essere un po' più umide o comunque tendono ad essere un po' con della terra attaccata sopra. Nella fase di raccolta ti consiglio già di fare un po' di selezione perché chiaramente devono essere secche ma ci sono alcune diciamo alcuni dettagli che ti fanno capire che la carrube che stai raccogliendo è buona o meno. Ti faccio un esempio, queste due carrube sembrano apparentemente tutte e due buone, in realtà noterai già che qua c'è un po' di polverina strana e questo già mi insospettisce ma se vedi bene qui ci sono diciamo è un marrone un po' più scuro un po' più chiaro questo toccandolo vediamo che è morbido e non dovrebbe essere così infatti se vado a spezzare vediamo che qui c'è un ospitino qua c'è un vermetto che ovviamente fa parte della della natura mentre spezzando questa qui vediamo che la polpa è compatta. Detto questo il secondo passaggio da affrontare è quello dell'eliminazione dei semi. I semi che vengono appunto chiamati anche karat sono molto molto duri e questi diciamo quando si va poi parleremo anche del taglio o comunque dell'apertura della della carruba sono molto duri e quindi possono rovinare la lama degli eventuali coltelli oppure se decidiamo poi di frullare il tutto e io ho rovinato le lame del del mio frullatore non sapendolo insomma qualche anno fa. Si chiamano appunto karat perché sono tutti più o meno della stessa grandezza e sono molto dure e resistenti tant'è che venivano utilizzati in passato come contro contrappeso nei bilancini di precisione per i metalli preziosi appunto pare che karati appunto dei metalli preziosi derivi appunto dai semi di questa di questo frutto. Per poter facilitare poi la polverizzazione dobbiamo essere sicuri di aver rimosso tutti i semi abbiamo detto e abbiamo diverse possibilità per esempio possiamo scegliere di tagliarla in verticale seguendo appunto un po come quando si fa con le fave o con i piselli si si apre il baccello in due e chiaramente questo è molto compatto quindi potremmo utilizzare uno spelluchino a lama curva e dovremmo andare ad incidere la parte centrale così e aprirla pian piano fino a quando appunto non si fanno le due metà un po come in questo caso così però è un diciamo è un'operazione che essendo molto dura potrebbe scapparci il coltellino e potremmo tagliarci la mano mi è successo poco poco male ma comunque può succedere quindi bisogna farlo con moltissima attenzione e cautela utilizzare un coltello un po più grande diciamo è molto salterino perché è molto dura e quindi bisogna fare anche qui attenzione e si fa un po di fatica a appunto a tagliarla una tecnica che io ho sperimentato è questa qui che è una forbice diciamo da pota sottile costa tipo 3 euro e 50 insomma il costo è veramente molto basso e una strategia è quella appunto di tagliare la parte diciamo esterna tagliamo la parte il picciolo diciamo così tagliamo le due estremità e poi magari possiamo tagliando le due estremità si dovrebbe diciamo potremmo facilitare l'apertura a mo di libro ok a questo punto con un coltellino possiamo anche fare un pochino di leva centrale e possiamo aprirla se vogliamo appunto ecco qua se vogliamo appunto eliminare i semi è un'operazione che richiede molto tempo perché appunto è un'operazione manuale del tutto manuale e quindi richiede un po di pazienza però un po come tutte le cose se vogliamo farle per bene dobbiamo impegnarci e così via quindi andiamo a togliere tutti i semi li mettiamo da parte mentre la parte della polpa tra virgolette la teniamo da parte che poi consiglierò di fare dei pezzettini un po più piccoli o a questo punto una volta che abbiamo la carruba tagliata un po diciamo aperta così possiamo farla con un coltello con un trinciante insomma con quello che abbiamo quindi fare delle delle listarelle così e per facilitare appunto poi anche la lavorazione oppure andiamo a tagliarla appunto con una forbice a pezzettini più o meno piccoli più piccoli sono diciamo meglio è perché poi andremo poi a macinarla chiaramente questa qui è asciutta ma non è completamente secca quindi che cosa ti consiglio di fare se hai la possibilità una volta che le hai pulite tutte quante quindi una volta che sono pronte in questo modo possiamo andare a tostarle un pochino quindi le possiamo mettere un pochino in forno oppure le puoi mettere un attimino nel microonde è un'altra possibilità io la sconsiglio questa qui oppure le puoi mettere anche se ne hai veramente poche puoi anche mettere un attimino in un pentolino in un padellino la scaldi poco poco e una volta che va via l'umidità sono belle pronte io per esempio ne avevo veramente poche da farti vedere adesso per questo video e le ho scaldate un pochino nel pentolino e per farti sentire appunto per farti capire cosa significa essere tostate e croccanti ecco qui il suono che dovrebbe fare ok quindi io le ho lasciate in questo caso le ho tostate così a pezzettone un po più grandi posso scegliere di farle a pezzettine un po più piccole anche con le mani mi viene anche abbastanza facile e il passaggio successivo sarà quello appunto di renderla in polvere per far sì che appunto per renderla in polvere abbiamo due possibilità o utilizziamo il metodo tradizionale che è quello del mortaio con un pestello in pietra perché con quello in legno non ce la fai però anche qui richiede veramente molto molto sforzo poi comunque contenendo zuccheri rimane inizierà ad un certo punto ad impastarsi un pochino il mio consiglio è quello di utilizzare appunto un macina caffè che è la soluzione insomma più semplice e veloce andiamo a questo punto a spezzettare un pochino essendo abbastanza secca insomma io la metto a pezzettone un po più grandi e vediamo che cosa succede queste sono appunto delle striscioline che come quelle che ho tagliato prima oppure ce ne sono queste qui sono invece tagliate a metà le ho fatte un po' un po' a scopo didattico diciamo così non lo facciamo troppo pieno per evitare insomma che si sforzi troppo diciamo che si sforziano troppo le lame e a questo punto andiamo a macinare il tutto questa è la partenza andiamo a macinare il tutto qualche secondo ok questo è diciamo una macinatura abbastanza diciamo sottile però adesso che facciamo andiamo a i semini li mettiamo qua questi semini li possiamo chiaramente utilizzare per appunto per piantare per farci degli alberelli ho visto dei tutorial molto semplici su come fare queste le appoggiamo un attimo di qua e passiamo alla fase successiva ci prendiamo una coppetta vaschetta insomma quello che voglio adesso te lo faccio vedere appunto in piccolo però giusto così per avere un'idea per poter per poter avere una polvere sottile ed omogenea ti consiglio di utilizzare un colino a maglie strette diciamo non strettissime ma comunque abbastanza strette questa operazione qua chi lavora in cucina la conosce molto bene perché spesso si setaccia per esempio la farina il pane il pane grattugiato e quant'altro perché appunto così si ha la possibilità di ottenere una diciamo una farina comunque un macinato molto omogeneo quindi andiamo a versare la nostra polvere che abbiamo macinato qui e andiamo a setacciare queste operazioni degli homemade richiedono molta pazienza in realtà per me che ne ho poca di solito ne avevo molta meno mi aiutano o mi hanno aiutato mi stanno aiutando a appunto ad allenare la mia pazienza e quindi fallo se hai la possibilità di farlo fallo bene questa è la nostra polverina che è bella omogenea il resto possiamo scegliere di macinarla ancora una volta e fino a quando appunto non diventa sufficientemente sottile da poterla utilizzare questa qui ti consiglio poi di allora se la vuoi tenere in un contenitore diciamo di plastica così comunque ti consiglio di chiuderla in maniera ermetica oppure più carina magari in un barattolino in vetro oppure visto che è bella sottile puoi anche metterla in un tipo sale e pepe quelle diciamo i salini ecco diciamo così o come dispenser per utilizzarla a modo di polvere come preferisci tu diciamo che un contenitore comunque chiuso ed ermetico è perfetto utilizzi gli utilizzi possono essere svariati a questo punto per esempio si può utilizzare come parlavo con un'amica che abbiamo conosciuto da poco lei sta facendo una dieta quindi sta cercando di diciamo prestare attenzione al consumo degli zuccheri quindi lei ha detto ho capito essendo che a me le carrube già da bambina piacevano un sacco e ho scelto di utilizzare la polvere di carrube perché appunto è dolce come sostituto del dello zucchero di canna in questo caso chiaramente il gusto è diverso e non ti aspettare che sia lo stesso però ha da quel dolce ed è un dolce fondamentalmente ottenuto da un prodotto fondamentalmente naturale del tutto è selvatico anche altri utilizzi per esempio in pasticceria possono essere quelle di utilizzare impastato insieme alla farina e fare per esempio dei dolci abbiamo dei nostri amici di mezza pagnotta a ruvo di puglia che fanno dei dolci a base di carrube che hanno un gusto fondamentalmente di cioccolato delle cose spettacolari vi consiglio insomma di andare a trovare tra le varie cose ovviamente come tutte le polveri al bar possono essere utilizzate per fare delle bordature possiamo anche utilizzarle per esempio quando facciamo la moca del caffè o nel caffè espresso possiamo aggiungere un pochino di polvere di carrube nella polvere del caffè in modo tale da dargli quelle sfumature un po diverse e non solo di caffè e questo e tante altre insomma poi spazio alla fantasia e quella insomma anzi se hai qualche consiglio da darci scrivilo nei commenti perché tornano sempre utili ah dimenticavo un passaggio ricordi quando prima ti ho detto mi raccomando non raccogliere quando insomma dopo la pioggia perché insomma saranno tutte impastate soprattutto se sono cadute per terra saranno un po impastate quindi l'importante che siano asciutte una volta che sono che le hai portate a casa nel laboratorio in cucina o dove le andrei a lavorarle ti consiglio quindi di non sciacquarle sotto l'acqua per lo stesso motivo perché poi tendono a inumidirsi di nuovo e di conseguenza quando c'è umidità si crea muffa e quindi poi le devi buttare ed è peccato fondamentalmente quindi ti consiglio di magari una volta che arrivi a casa con un panno asciutto di dargli una passata per rimuovere per rimuovere a poi è partito un pezzo per rimuovere dei magari se c'è un pochino di polvere un po di terra insomma è un prodotto selvatico quindi ci può stare però fai un po come ti senti un po più sicuro per conservarle chiaramente come ti dicevo l'importante che la conservi in un luogo asciutto e possibilmente non umido se dovesse succedere che si appallottola un pochino quindi che si aggruma un po troppo puoi anche riscaldarla un pochino e quindi poi risepararla quella è solo perché ha accumulato diciamo umidità un po come come succede con il sale con lo zucchero la stessa cosa data di scadenza o shelf life chiamala un po come vuoi non ne ha fondamentalmente però come ogni prodotto io ti consiglio di raccogliere il giusto che ti serve per il consumo diciamo annuale fino all'autunno prossimo e questo è quanto ci sono diverse ricette che proporremo nei prossimi video a base di carrube ma poi ne parliamo bene se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù commento e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darà la possibilità di continuare a crescere a darti maggiore contenuto gratuito approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella din don in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio non resta altro che direci ci vediamo presto anzi prestissimo alla prossima ciao